Salve a tutti e bentornati su botanicula, probabilmente l'ultimo episodio di botanicula perché siamo molto molto vicino alla fine Nello scorso episodio ci avevano ucciso i nostri amici Che non è una cosa bella, in questo episodio invece andremo a esplorare questa L'interno del mostro che non voglio, non c'ho molta voglia di farlo, però mi sa che dobbiamo farlo comunque se vogliamo sopravvivere No, un'altra bocca Basta bocche, non è affatto bene, voi smettetela Ah vai, questo qua posso entrare? Uh, qua posso entrare Qua c'è un altro seme, devi raggiungerlo Ok Uh, ok, bisogna stare attenti a questo Te cosa fai? Mi metto un pochino a cliccare tutti a caso Te sali Te scendi Abbiamo fatto? Ci abbiamo fatto, sì Grande così Prendilo Ah, dobbiamo diventare talmente potenti da non poter essere mangiati Posso entrare in questa bocca? Se clicco Ah, sì, posso comunque entrare nelle bocche? Oh no Cosa devo fare? Ehi, nessuno mi ha detto che sarebbe diventato uno sparatutto No, ok, non ho capito come funziona Ah, ok, ho capito come funziona Ho capito, ho capito, ho capito No, non ero morto Ah, attacca lui Ok Dai, ce la facciamo, è semplicissimo questo Attacca Uh, è carino questo Mi ricorda Insane dei twist del cielo planet Distruggirò, distruggirò Uh, è l'ultimo questo Oh no Oh, forse ce la facciamo Dai, dai, dai Ce la facciamo, ce la facciamo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Oh no Attaccalo, 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 attaccalo Attaccalo Vai che ce la fai Oh, grande Un altro 6-mino, tutto per noi Woo Andiamo qua Oddio Ah, non posso entrare ancora Vai Ok Ah, ecco, mi sembra troppo semplice Cosa, cosa stai facendo? Ehi, seguilo, seguilo, seguilo Vai, vai, vai No Uh, cosa vuoi fare? Uh, ecco Bisogna attaccare lui invece che prendere il seme Ah Oh Dio Te cosa fai? Oh no No, 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 no Forse devo farlo Aspettate un attimo Se riprovo a fare questo Ah, devo cercare di prendere lì Ah, ok, è semplice Dai, dai, dai Ok, ce l'abbiamo fatta No Sì, ce l'abbiamo fatta Grande Scappa, scappa, scappa Scappa Woo Ah, sei finto? Non ho ben capito Vai, vai di là Smettetela voi Fastidiosi Vai qua Voi cosa fate? Ah, dobbiamo farli incrociare? Così 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 E così Perfetto No Ah, ecco Vado a prendere comunque Questo era semplicissimo Abbiamo fatto tutto? Non credo Forse solo non l'abbiamo fatto No, sono i nostri amici No, 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 no Non ci provare Ehi Aha Vai a prendere quello No, no Ascenti Ok, forse ho capito Dobbiamo cercare di Avvicinarci a quello Per prenderlo Fai così E te corri là Aha Siamo più veloci di lui Adesso non può essere qua Perché mi sembra troppo semplice No, infatti Allora forse così e così Aspettate un attimo Forse ho capito Vai, vai, vai Come a prendere quello Aha Ti ho fregato Ti ho fregato Adesso posso scendere giù? Siamo abbastanza luminosi, no? Aha Ok Oh no Mi sembra Oh no Uh Non mi piace sta cosa Ehi Ehi Guarda che occhietti piccolini Ci abbiamo Ah, è diventato bianco Come nella storia Ah, bellissimo Aha Siamo ritornati qua E? Ah, ripiantiamo il seme È certo Che schifo che fa Ah, è giusto che lui non era in realtà così colorato Ed è cresciuta la pianta Te ci metti di esporre Te ne poni le uova O i nidi, quello che è I fiori Perché lo stacchetto fa i fiori? Oddio Salve Ci sono anche loro, no? Che schifo Oddio Oddio Babbo Natale Ti prego Non farti mai più vedere Yeah È finito Così Ah Eh, stop Hai preso 101 Di 123 Non l'ho capita Ah, si è sformato lui nel fungo Oh Ehi, no, no, no Tente, abbiamo sconfitto Bah Ah, ecco Ok Abbiamo finito botanicola Mi è piaciuto molto come gioco Questo gioco qua è molto semplice Ma nella sua semplicità è molto divertente I puzzle sono Molto creativi in realtà Perché non sembra Però sono molto creativi e complessi E non dispiacerebbe giocare un'altra Avventura grafica di questo studio di animazione Prima o poi Probabilmente non nel breve periodo Perché già questa serie qua Non ha fatto grande successo Scalpore Proprio perché in realtà Mi aspettavo Non è una cosa tipica del canale Ma comunque Mi è piaciuto tantissimo a me il gioco Ma quindi Per questa serie è tutto Spero che avete apprezzato Spero di vederevi nella prossima serie Ciao a tutti